Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo diciannovesimo episodio della nostra Master League con la Roma, signori. Allora, veniamo dallo scorso episodio in cui abbiamo perso contro il Dortmund, ma questa non ci butta giù, signori, e continuiamo la nostra rincorsa verso il secondo posto, che è della Fiorentina in questo momento, signori. Quindi dobbiamo testa bassa e continuare verso i nostri obiettivi. Detto questo, io vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suoi studenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, signori, come obiettivo base. Poi andremo verso sempre obiettivi più grandi e grossi, ma senza il vostro supporto, signori, io non lo posso fare e questo già vi ringrazio in anticipo. Detto questo, signori, siamo pronti e carichi a pallettoni per partire con il video di oggi. Scendiamo in campo e andiamo a vedere un attimo cosa succede. In tutto questo, signori, io devo ringraziare sia Charlie Feeder, che mi piacciono tanto i commenti che mi lascia sotto i video di questa serie, e anche i suoi consigli, che li apprezzo molto, e anche il consiglio di Pari dei Grassi, che mi ha consigliato, signori, di giocare con il 4, 2, 1, 3. Quindi, vediamo un attimino, 4, 2, 1, 3, sarebbe questo, 4, 2, 1, 3, 7, e questo di qua. Modifica posizione, no, modifichiamo un attimino questo, lo mettiamo un pochino più avanti però, sì, e poi modifichiamo anche no, tu stai bene lì e tu lo mettiamo due più indietro, ok, due di là e un due di qua, perfetto. Ora però dobbiamo anche cambiare giocatori, utente, va bene, va bene, cambia giocatori. Allora, Bolotta si va a fare un giro e entra il bomba pagita, Totti si va a fare anche lui, nel senso, scende in campo per Ximenez, lo mettiamo a posto di Totti e Miranda lo mettiamo a posto di Espimas, ok. Sto facendo un po' di confusazioni però ho in testa quello che dobbiamo fare. Ok, abbiamo Bavangita sulla destra, Castello centrale, Castello centrale e Espinas sulla sinistra, ok. Totti rifinitore e Miranda Vorlangen a spezzare il gioco. Avversario, detto questo scendiamo in campo e che la fortuna ci assista. Ciochiamo contro la Fiorentina, signori, proprio la Fiorentina, lei che occupa il secondo posto in classifica, che a noi ci interessa, signori, quindi dobbiamo vincere per forza, signori, dobbiamo portarci a casa per forza i tre punti. A prescindere di tutto dobbiamo portarci a casa i tre punti. Proviamo anche questo nuovo schema, vediamo un attimino che sensazioni abbiamo per ora, delle sensazioni di merda, signori, perché questo mo' se n'è andato da solo, porca, mamma mia che partenza subito così a razzo. Battistuta solo davanti i fanno, stavamo per prendere l'1-0 senza neanche capire in che stadio stiamo giocando, signori. Noi eravamo ancora negli spogliatoi a giocare con le formine e questo mo' già ci stava a segnare l'1-0. Però va bene, però va bene, ci serve per darci la svegliata, signori. Vorlangen, grande recupero di parla di Vorlangen, 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 Vorlangen. Aspetta, Espimas che scatta ora, Espimas, 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 Espimas. No, Castello, mi sono affogato, stavo per urlarla, l'azione è bellissima, grandissima l'azione di squadra, signori, grandissimo. Espimas che si è fatto trovare pronto, niente, Totti non c'ha voglia di giocare oggi. Totti si è fatto anticipare, grandissimo Valery che la recupera però, grandissimo Valery che la recupera. Perché vede Totti, 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 Lancia, ancora Espimas, 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 arriva sul fondo, cerca il cross. Forse Raffallo? No? Va bene, va bene. Attenzione, una buona Roma fino a questo momento, Babangita, tocca il suo primo pallone, Babangita, Babangita, decide di allargarsi. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, rientra. Che cazzo non lo fai, Babangita? Ti addormenti così, dai, porca, porca miseria infame. Grande, subito il recupero però della Roma, che con Babangita ancora, Babangita, 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 questa volta in trinare, Babangita, il tiro. Ma perché non c'è nessuno su queste cazzolotti respinte, mannaggia di una miseria. Vorlangen, 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 l'uomo dalla testa buona ma dei brutti, Babangita, parte lui al limite, Babangita, 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 Babangita. Grandissima azione della Roma, Roma 1, Fiorentina 0. Grandissimo, Vorlangen, che di testa l'ha spizzata per Babangita, che mette fuori gioco il difensore della Fiorentina e tira, bucando, tolto, sul suo palo. Grandissimo, 1-0 dalla Roma, mi piace sto schema, signori. Grazie mille per il suggerimento, grande suggerimento, è anche ottimo il suggerimento di Charlie, di far giocare comunque Totti e Miranda assieme. Perché comunque Totti ha dei piedi buoni e Miranda in quel ruolo, secondo me, fa veramente bene. No, no, bravissimo, è rimessa nostra, bravo Espinas, bravo Espinas, secondo me, se riusciamo a trovare un altro che corre come, come, uuuuuh, peccato. Se riusciamo a trovare un altro che corre sulla fascia sinistra come Babangita, sto schema diventa devastante, signori. Grandissimo il Bamba, grandissimo il Bamba, che recupera un pallone, un pallone preziosissimo per il 2-0 della Roma sulla Fiorentina, signori. Mamma mia, pallone recuperato dal Bamba Gita, che la piazza piano piano, piano piano sul lato opposto di Tolto, 2-0 della Roma sulla Fiorentina. Mi piace sto schema, un grande, un grande ringraziamento a Paride, signori miei, che mi ha dato proprio, mi ha illuminato, mi ha illuminato, signori. Ci ha svoltato forse la stagione, grazie mille, suggerimenti che mi date dei commenti, signori, e continuatemelo a dare, continuatemelo a dare, perché funziona, ma funziona, ma funziona, ma funziona. Questo dimostra che io senza di voi, signori, non riusciamo a fare nulla. Mamma mia, è uscito un U molto scimmisco, però va bene, era un, 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 attenzione, buono. Stromer, Stromer, con calma per Totti, 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 Babangita, Babangita, c'aveva le praterie, ma ha cercato Castello per provare a far girare un attimino la squadra, ma Castello non ha voluto partecipare a questa azione. Intanto, 2 a 0, 2 a 0, doppietta del Bamba, signori, 2 a 0, doppietta del Bamba. Ah, non mi potete dire che non sto giocando di squadra, signori, non mi potete dire che non sto giocando di squadra, perché il secondo gol, il primo gol è avvenuto, è avvenuto grazie a un gioco di squadra, con assist di Vorlangen. Il secondo, brutto fallo, no, zio, ok, io ho camonito. Il secondo è avvenuto sul pressing alto della Roma, con Babangita, che recupera un pallone preziosissimo e trova il gol del 2 a 0. Che potrebbe mettere in ghiaccio la partita, ma noi non vogliamo ghiaccio, signori, c'è, fa ancora freddo, non ne vogliamo ghiaccio. Non ne vogliamo ghiaccio, vogliamo portarci a casa più punti possibili, mannaggia, Ivanov, Ivanov, ok. Un po' rischioso sta situazione, attenzione alla Fiorentina che si è presa di coraggio, porca miseria. Porca miseria, Batistuta, a calcio d'angolo, al 32esimo per la Fiorentina, palla girata al centro, buono il salvataggio, niente da fare, dormiamo, dormiamo. Miranda, Miranda recupera il pallone, Miranda, 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 parte per la Roma, in contropiede, Miranda, 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 Babangita, comunque, no. Ho cercato subito lo scatto in profondità, Castello non mi ha seguito. Potevo recuperare il pallone, attenzione, Miranda, attenzione, no, Babangita, Babangita recupera, Babangita, Babangita, grandissimo l'altacco, Babangita. Tolto si salva, tolto si salva, signori, rimessa laterale per, per chi? Per la Fiorentina. Non ho visto, signora, ho avuto un attimo di vuoto completo, mannaggia, 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 mannaggia. Mamma mia, che brutto fallo di Valeri, completamente fuori tempo, arriva l'altro giallo, l'altro giallo, sì, stiamo prendendo troppi cartellini e non è ancora neanche finito il primo tempo. Non va bene questa punizione per la Fiorentina, buttata al centro, attenzione ancora, palla che arriva a Cecil, 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 Cecil. Lì ci servirebbe Ronaldo, signori. Ronaldo lì, secondo me, sarebbe la sepolta. Valeri, 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 Valeri. Cercato Totti, 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 che cerca ancora il primo gol con la Roma. Dopo due partite, eh? Ci sono giocati due partite? Sì, no, forse, non mi ricordo, quante cazzo le partite ci abbiamo giocato con Totti. Attenzione, che cazzarola fate? Brutti cretini, che cazzarola state a fa? Ah, ha ritardati, dai, sveglia, dobbiamo fargli segnare per forza? Dobbiamo fargli riaprire la partita per forza ora? No, direi anche di no, Totti subito, per il Bamba, per il Bamba, che ha deciso di partire sulla fascia. Adani, 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 bruciato da Babagita, Babagita, che la vuole chiudere? Avremo giusta, 3 a 0, mannaggia, mannaggia a me. L'avrei potuto anche passare, signore. Lì, Babagita, peccato di, 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 attenzione, attenzione, Castello, Castello, riesce a girarsi. Castello, Castello, mannaggia, sei lento come, 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 come le lumache. Sei lento come, come una lumaca Castello, lo dobbiamo chiamarlo. Ru, sì, stavo, stavo letto il nome di Ruicosta, quando non era Ruicosta, quello nostro, ma era Espimas, va bene. Attenzione, ancora Totti, 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 Totti sta giocando bene, signore. Totti si sta mettendo in buona luce. Attenzione, Babagita, 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 riesce a crossarla, mannaggia. Non siamo riusciti a crossarla con Babagita, solo che non siamo riusciti a concludere l'azione. Attenzione, attenzione alla Fiorentina, che è presa dall'orgoglio, signore. La Fiorentina sa che la deve riaprire ora, la deve riaprire ora, la Fiorentina. Fuori gioco, va bene, va bene. Sono passati otto minuti. Fiorentina sa che la deve riaprire ora, se vuole rimanere in partita. Attenzione, Vorlangen, 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 l'apertura per Espimas, 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 che non riesce. Attenzione, Babagita, mannaggia. Attenzione, Jorga, 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 per Espimas. Mamma mia, Babagita, gran tiro di Espimas. E Babagita poi l'ha ritirata subito sulla respinta di Toldo, solo che forse non ci stava tanto questo tiro subito di Babagita. Era meglio ragionare su questo pallone. Espimas, che comunque recupera la palla, bene Totti, che gira su se stesso. Totti, Totti, Totti. La palla era per Babagita, che era da solo, praticamente. Babagita era da solo. Valeri, vale, 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 attenzione. Attenzione, comunque la Roma si giostra bene questa azione. Babagita, Babagita, praterie per il Bamba. Praterie per il Bamba, signori. Praterie per il Bamba. Adani prova a stargli dietro, Adani prova a stargli dietro, ma non c'è, non c'è possibilità. Oh, era rigore. Era rigore, era rigore nettissimo. Ma che cazzo l'ha stata a fare in Salavarra? Era rigore nettissimo, signori. Mi ha steso in area di rigore. Ivanov. Calma, 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 ma... Cioè, era rigore, signori, era rigore per noi. Dai, non mi puoi fare queste cose, però è giusto? Cioè, era rigore, era passaggio... Preciso in area di Babagita. Attenzione alla Fiorentina che l'ha riaperta, signori. Attenzione alla Fiorentina che l'ha riaperta. E Ivanov, però, la tiene lì. Al ventesimo. Al ventesimo del secondo tempo. Al ventesimo del secondo tempo. La Roma la riapre. Al ventesimo del secondo tempo la Roma la riapre. Scusatemi, la Fiorentina la riapre. Attenzione, ancora l'azione di Babagita. Di Babagita, annaggia. Non mi è riuscita il cambio passo. Volevo entrare per passarla. Sono onesto. Volevo entrare per passarla, ma non mi è riuscita. Attenzione, Miatovic. 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 Babagita, cerca tutti, 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 no, no, Spimas. Buttato giù come un ramuscello di non so che cosa, signori. Attenzione, non riusciamo a tenerla. Riusci a tenerla. No, non riusci a tenerla. Miatovic, ancora su quella fascia. Sta a far fuoco, Miatovic. Signori, si è svegliato tutto d'improvviso. Palla buttata nelle rimesse laterale per la Fiorentina. Fuori chiesa dentro Coes. Non so chi sia Coes, ma va bene così. Ma se la porta fuori. Bravo Coes. Bravo, bravo. Gioca per noi Coes. Attenzione, ancora. Totti, tutti, 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 tutti. No, questa è Miranda. Miranda, 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 Miranda. Miranda, Castello, Castello per Spimas, che la tiene. Spimas cerca tutti. Totti, tutti, 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 tutti. Attenzione, non ho capito più niente, signori. Non ho capito più niente, però la palla arriva a Babagita che la butta dentro. Niente. Sui calci, sui... Le palle di testa, signori, non è inutile che le proviamo proprio. Grandissimo l'intervento di Cecil, che dice no a questa Fiorentina, che è mossa dall'istizio. Sì, vabbè, noi però perdiamo palloni assurdi. Perdiamo palloni assurdi, ma noi grandissimo. No, vale, dovevi metterci il piedone. Va bene, Cecil, ancora. Statuario, Cecil, signori. Statuario, Cecil, tutti, 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 tutti. Su un'imprecisione della Fiorentina. No, Castello si addormenta. Oh, bah, fallo, brutto fallo, brutto fallo. Ammonito Stromer, eh, Ammonito Stromer, brutto fallo. Punizione. Batistuta. La butta dentro, attenzione. Uh, non so chi fosse la Fiorentina, ma stava per calciare in porta. Signori, è come in questo momento, rimessa al fondo. Quarantesimo. Fiorentina 1, Roma 2, Pierini. Pallone per Valeri. Valeri, 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 Valeri. Vorlangen, Vorlangen. Cerca Totti. Totti trovato, Totti trovato. Attenzione. Espimas, Espimas, Totti. Espimas, Castello, Castello. Cerca. Il passaggio in profondità per Babangida. Che pallone arriva? Miranda, Miranda, Castello, Castello, Castello. Espimas, Espimas. Grandissimo momento di Totti. Ma porca. Perché glielo ho data in profondità? Gliela devo passare con calma. No, ma non lì, mannaggia. Ma chi ti fa giocare? Non recuperiamo questo pallone, signori, prima che lui se ne vada solo in aria? Valeri, 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 Valeri. Escecivano. Sarra. Calcio d'angolo nei minuti di recupero. Calcio d'angolo nei minuti di recupero, signori. Calcio d'angolo nei minuti di recupero. Patti, il travestone al centro. Palla, spazzata via. Attenzione. Castello, 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 Castello. Portatella alla banderina. Castello. Alla banderina, Castello. Alla banderina. Va bene. Ci pensa Espimas. Guadagnare una rimessa laterale. Bella così. Bella così. Chiudiamo in attacco, signori. Chiudiamo in attacco. Valeri, 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 Valeri. Valeri, Castello. Non riesce a girarsi. E finisce lì, signori. Dai così. La Roma parte la Fiorentina. 2-0. 2-1. 2-1. E si rimette in carreggiata. Dai così. Grandissima vittoria. Grandissima vittoria. Il Palma Bartal Amsterdam. 3-0. Il Rio de Janeiro, che sarebbe il vasto da gamma, pareggia contro il Dortmund. Quindi due punti recuperati sul Dortmund. L'Arsenal perde contro il West Ham. Quindi tre punti recuperati sull'Arsenal. E va bene così, signori. Assist di Vorlanger per Babagira. E poi Babagira, che la recupera su un pressing in uscita dalla Fiorentina. E 2-0. Va bene così, va bene così. Signori, 16 punticini che non fanno proprio schifo. Va bene così. Buoni, buoni. Va bene, va bene. Mi piacciono. Siamo sempre sesti a 27 punti. Ok. Ma la zona calda vista solo 4 punti, signori. La Fiorentina è a 31 punti e noi siamo distanti dal secondo posto a 4 punti. Quindi siamo lì, signori. Siamo lì. Ce la possiamo ancora giocare e possiamo puntare a quel secondo posto. Il Dortmund è a 10 punti. Penso sia inarrivabile. Ma il secondo posto, secondo me, può essere un ottimo risultato. Detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un nuovo episodio. Bella raga. Ciao.